Come ti senti in questo momento? Bene, bene. Non ho sentito alcun dolore, proprio assolutamente indolore. Avevo già fatto la vaccinazione antinfluenzale, quindi è stato completamente uguale, come una normale puntura. Tutto bene. E come si sente ad essere il primo vaccinato? Sì, sono molto soddisfatto, è anche un po' una punta d'orgoglio, sono onorato di essere stato uno dei primi, perché poi non è che sono stato il primo, però uno dei primi a iniziare questo percorso, che spero e credo ci aiuterà a sconfiggere definitivamente questo virus. Secondo lei i suoi colleghi e tutti gli operatori sanitari dovrebbero obbligatoriamente farlo? No, no, no. Pieno rispetto a chi ha ancora dei dubbi o chi pure è contrario decisamente, ognuno può liberamente scegliere. Speriamo che col passare dei mesi, piano piano, quando questa campagna di vaccinazione prende campo, magari chi è ancora in dubbio possa decidersi a fare la vaccinazione. Però no, nessun obbligo. È un momento storico perché cominciamo a vedere la fine di un percorso importante, un percorso che comincia oggi, che si perfeziona nei primi giorni del mese di gennaio, quando arriveranno 38 mila vaccini per tutto il personale sanitario, e poi arriveranno altri centinaia e migliaia di vaccini nei primi di marzo-aprile e contiamo verso settembre di vaccinare metà della popolazione marchigiana, quindi 700 mila marchigiani. Siamo molto ottimisti nel futuro, nel senso che siamo in grado di contrastare questa epidemia. Come sapete abbiamo aumentato notevolmente lo screening e quindi l'accertamento dei positivi asintomatici e l'organizzazione che abbiamo testato servirà per la somministrazione dei vaccini. Se ce li fornirà lo Stato saremo in grado di allargare la platea della vaccinazione ad una fascia notevole della nostra popolazione per raggiungere l'immunità di greggio che si raggiunge, come sappiamo, quando avremo vaccinato il 70% dei nostri concittadini. Diciamo che c'è una macchia di leopardo, finora c'è un'adesione che va da 40 al 70-80%, speriamo che comunque il numero aumenti considerevolmente perché evidentemente ha un effetto immagine, ha un effetto su tutti i cittadini. Se il personale sanitario si vaccinerà in numero adeguato è proporzionato al numero dei dipendenti. Evidentemente però viviamo in una democrazia e sappiamo dalla nostra storia che di assoluto non c'è nulla e quindi è legittimo anche il dissenso che viene espresso sia dagli operatori che da comuni cittadini. Lei quando si vaccinerà? Io sono pronto a vaccinarmi anche oggi stesso, però non vorrei che questo apparisse come un privilegio, quindi aspetto che l'Asur mi chiami quando sarà il mio tempo. E il mio tempo sarà nei primi mesi di marzo quando verranno vaccinate la popolazione con più di 60 anni d'età. Finora il Ministero della Salute ci ha comunicato che la provvista per le marche per settembre è per la metà della popolazione, quindi noi contiamo di ricevere tra maggio e giugno circa 6-700 mila vaccini. E quindi questo presuppone organizzare sin da subito non solo la comunicazione ma anche l'organizzazione della struttura utilizzando quella che stiamo già adottando per lo screening di massa. L'appello è un appello che io rivolgo a tutti perché il vaccino dobbiamo avere fiducia nella scienza. Naturalmente sono aperte tutte le analisi critiche nei riguardi dei possibili effetti che il vaccino potrà determinare. Evidentemente l'Ungheria è partita per prima oggi in Europa. Oggi tutti i cittadini dell'Unione Europea si vaccineranno. Nei prossimi giorni arriverà anche la validazione dell'altro test, quello della Moderna. c'è una pluralità quindi di vaccini e penso che sia un elemento di fiducia quello che noi dobbiamo rivolgere nei riguardi della scienza che in un anno è riuscita a produrre questo vaccino.